L'industrissimo signor Loris Vanni, mi chiamo Ludovico Reviglio e mi permetto di infortunarla dal momento che ho avuto il privilegio di incontrarla personalmente dopo uno strepitoso concerto dei mitici Pluto. Una bella intervista approfondita a tutti e quattro i membri dei Pluto. Per realizzare un film documentario di una sessantina di minuti. Vi dovrei dire la casa del gruppo! Vogliono fare un documentario su di noi ma non sa, parecchio importante. Comunque ci pagano eh! Sì, bravo! Io semplicemente li adoro. Un grande concerto è indispensabile per lanciare l'iniziativa editoriale. Poi, a che bellezza! Vi dovete fidare, è una cosa grossa. Una volta gli ha trombato la mamma. I più grandi di tutti, il Pluto! Si fa care. Siamo solo degli sgraziati. Si sente che c'è. Feelings. Rilassati. Goditi la vita. Questo paese è morto. Dame Ove. Avete rovinato la vita. L'idea del nome si deve alla divinità greca dell'opulenza e della ricchezza o al pianeta? No, era il nome del cane della minonna. No, era il nome dell'opulenza e della ricchezza o al pianeta.